Il donatore ha potuto dare un'occhiata a qualche pagina, soltanto questa mattina, dalle 6 alle 8 meno un quarto. Quindi non sa a che santo votarsi, ma lo verifichiamo poi alla conclusione. Oggi è il 17 gennaio 2009. E il titolo è questo. Cadmo e armonia. Quale avvenire e quale destino per l'Italia e per l'Europa? In che modo Leonardo da Vinci e Niccolò Machiavelli contribuiscono a affrontare la crisi a vantaggio dell'approdo al valore? Questo è il titolo. Per cui sentiamo se c'è qualche quesito, se voi siete preparati. Sabato prossimo, domenica prossima, dunque, nell'ipotesi di domenica prossima, stabiliremo il titolo. Ma saranno altri due. No, domenica, sabato. Sabato? Perché domenica? Sabato? Sabato? Prendiamo pretesto da questi cosiddetti miti mediterranei. E allora dovrebbero essere o Urano e Crono, o Zeus e Hera, o Deucalione e Pirra, o Pygmalione e Galatea, per fare un esempio. Ma ci sono molti altri. O Peleo e Teti. Quali preferite? Non siete aggiornati su queste attualità? Sono cose di una scottante attualità. Allora, Urano e Crono, Zeus e Hera, Peleo e Teti, Deucalione e Pirra, Pirra, Deucalione e Pirra, o Pirra, o Pygmalione e Galatea. Ma quello, per ultimo, ci cominciare con quello? No, è chiaro che rispetto al punto in cui siamo oggi vengono o Urano e Crono o Deucalione e Pirra. Urano e Crono, il cielo e il tempo. Deucalione e Pirra, la ricreazione del mondo. Va bene, lo decideremo. Allora, rispetto a oggi, avete qualche cosa da notare, osservare? Come incominciamo subito? Io non sono preparato. Nessuna domanda avete sul tema di oggi? Cardimo e Armonia. Avevo detto il titolo, già. Comunque ce l'avete. Sono un master, questo è un master, sono lezioni intorno a questo, di questo master. è un po' enfatico chiamare master comunque. And load up. C'est une question entre la gestion et l'organisation pragmatique. Bene. Ingegner Atti. Nella conferenza su Efesto e Atena, lei ha letto Efesto come Emero Faistos. Non mi ricordo più niente di quella. Però non mi ricordo chi siano queste persone. Chi sono? Efesto e Atena, non mi ricordo più. Comunque è letto come quello che splende di giorno e quello che splende di notte, no? Ma fanno così? Ha detto lei. Sì, sì. Però la domanda era appunto se si trattava ancora una volta dei due sentieri. Eh no, ma adesso non mi ricordo più. Questa era per quella conferenza lì. Allora per questa... Questa è... Qui sono Cardmo e Armonia. Per questo, siccome lei ha accennato al diluvio e alla ricreazione del mondo, c'è una... Ci sono due, insomma, creazioni del mondo, no? Tante, ce ne sono tante. Questo è quei denti del drago. Sì, sì. Non è la stessa? No, c'è un altro drago pure, nella mitologia, in altri denti. Comunque non importa. Ce ne sono tanti. Comunque ho capito. Comunque la ricomparsa nella questione del dente. Sì. Dente per dente. Certamente. Va bene. Sentiamo. Prego. Allora, il matrimonio tra Cardmo e Armonia, questo matrimonio, poi il primo, dove fu presente anche l'intero Olimpo. Matrimonio? Sì. Tra una... Nozze, nozze. Tra un umano e una dea. Quindi poi la discendenza degli eroi. Ecco, però questo, così, per accennare alla questione, perché quello che mi incuriosisce è questo significante armonia, di cui lei accena e ne parla a lungo, anzi, nei vari libri, e certamente l'armonia di cui lei ha parlato, che è l'arma, la giuntura, è anche la giuntura e la separazione. Bene, adesso lo verifichiamo. Esatto, che non è l'armonia sociale, cosmologica. Adesso verifichiamo anche questo. E a proposito dei dispositivi, questa armonia... Sì, ecco, questa è importante. E la condizione, quindi, del dispositivo... No, no. No, no. Finanziario, no. La condizione è sempre sembiante. Ah sì, la condizione... Certo. Però mi chiedevo se... C'era un altro ragionamento, era a proposito del dispositivo finanziario, che esige il quantum. Il quantum, che non è la domanda quanto... La quantità. Ecco, ma è quella quantità che... Cioè non è questo quantum misurabile, algebrico o geometrico, dice lei, ma che comporta l'infinito attuale, l'infinibile. Quindi, la questione interessante è che, anche nella vendita, per esempio, questo quantum non è quel segno che sta... Ha quel segno, come dire, quella significazione della differenza, cioè ciò che sta a significare la differenza fra, per esempio, l'acquirente e il venditore, come anche nel dispositivo, no? Tra i vari interlocutori, cioè questa differenza non è rappresentabile da questo quantum. Questo, però, la quantità, lei dice anche, è pragmatica, quindi, e comporta, quindi, flussi, cioè, prima che ci sia, appunto, la vendita e l'acquisto. Quindi, questa questione mi sembra importantissima, anche rispetto alla questione delle nozze, del dispositivo stesso, del matrimonio, in cui questo quantum non è il quanto mi dai, quanto ti do, quanto mi ami, eccetera, ma qualcosa proprio dell'insignificabile che va a strutturarsi. Sì, questo è un po' per riprendere. Va bene. Sentiamo altri. Arianna, prego. Bene, grazie. Adesso vediamo di riprendere. Par rapporto al Congresso del Cure, Par rapporto al Congresso del Cure, che si era tenuto a Sennacone in 2003, credo, c'era tutta una serie di temi... Una serie? Tutta una serie? Non, ma non, non? Comment una serie può diventare tutto? Allora, d'accord, ho capito, la precedenza. Una serie di temi, dont la question di l'harmonia e della disarmonia. Ma le temi sono una serie. Di? Di temi. In tutto caso, il y aveva questo tema là, l'harmonia e disarmonia. Harmonia e inharmonia. Inharmonia. Ok. La question, c'était, par rapporto alla question de l'instant, est-ce que, de l'instant, ... Sì, è un modo di essere a l'escoltare dei due registri, dei due aspetti, di armonia e disarmonia, per evitare il cerco? Non, non ne vuole mai escoltare, faccio l'attenzione, non ne vuole mai escoltare, seno avrete un malheur per voi e per i miei amici, non ne vuole mai escoltare. La crisi mette qualcosa di una realizzazione impossibile? La crisi mette qualcosa di una realizzazione impossibile? E se è come le contrecoupi per rapporto al discorso? Ok. Poi? Va bene, cominciamo. Grazie. 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 La questione di cadmo e di armonia è la questione del numero e della cifra. Pertanto dei dispositivi cifrali, segnatamente dei dispositivi economici e dei dispositivi finanziari. Secondo Erodoto, cadmo dunque visse attorno a 1600 prima di lui. Prima di Erodoto, quindi circa 2000 anni avanti Cristo. Cadmo visse. E' figlio di Agenore e di Telefossa. Comunque Agenore re di Tiro, in Fenicia. Cadmo era Fenicio. Perché ovunque parte dalla Fenicia? Su quale ordine? Per quale ordine? Per quale scopo? Dove è diretto? Chi insegue? Che cosa fa affondare? Cadmo Cerca la sorella. Europa. Rapita Da Zeus. Un ordine, una condizione. Cadmo deve cercare e soprattutto deve trovare e deve riportare in patria, a Tiro, Europa. Parte dunque. Un viaggio periglioso. E... Terre, mari. Una grotta. Una fanciulla che è una dea. Armonia. Il drago. La tiene in questa grotta. Cadmo combatte con il drago. Che... Il cui sponsor è Apollo. Non può dunque Delfi. L'oracolo. Non può... Non può... Non può uccidere il drago. Il drago è terribile. Come questo drago, come è descritto. E... Come viene affrontato. Di che cosa dispone. E quali sono gli strumenti di cui dispone Cadmo per uccidere il drago. come riesce a uccidere il drago. Che ne sarà poi del drago. E soprattutto dei suoi denti. per ogni dente un uomo. Per ogni dente un uomo. E... E... Tra uomo e uomo. Qui... Fratelli. Una guerra civile. Si uccidono. Si uccidono. Si uccidono ma non tutti. Non tutti... Non tutti... Muoiono. Cinque... Rimangono. E sono dunque i figli del drago. Gli antenati delle tribù di Tebbe. E... Quindi... Un'altra generazione. Una generazione. Tebbe. Non c'è nulla. Qui... E' una terra. Questa terra. Sarà una... Una rocca. Una cadmea. Ma... Poi... Tebbe. Viene fondata Tebbe. Cadmo. E' fondatore. E' fondatore di Tebbe. Lui dunque che viene dalla Fenice. Lui che porta la scrittura. Fenice. E... E molte altre cose. Seguiamo dunque questa... Questo apologo. Sono molti che... Molti a parlare, no? Di... Cadmo e Armonia. A descrivere. A raccontare. Quindi sono poeti. Storici. Appunto... Quindi anche... Come accennavamo adesso... Erodoto. O... Pausania. E... Pausania. Anche Diodoro Siculo. Che invece dà un'altra versione. E... 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 Armonia non sarebbe figlia di Ares e di Afrodite. E... E... Gli storici raccontano, ma di Zeus e Elettra, Elettra figlia di Atlante, i quali avevano, appunto, per di così generato, Dardano, Iasone e Armonia. E in quell'occasione Elettra, quindi, regalò alla figlia i sacri riti della Grande Madre degli Dei, insieme ai cimbali, ai tamburi e agli strumenti del relativo rituale. Poi Kadmo, conforme all'oracolo ricevuto, fondò Tebbe in Beozia. Le nozze. Fra una Dea e un uomo. Una nuova era. Nozze celebri. Gli Dei sono a Tebbe. L'Olimpo si trasferisce a Tebbe. Quindi una descrizione specialissima per qualcosa di irripetibile. le nozze tra una Dea e un uomo. La Dea, appunto, è Armonia. Armonia. Armos, giuntura, ma anche giuntura, Armos, Armu, anche arma il carro. Carro, l'Alleanza. Il carro del Leone e della Lince. Il carro dell'Arco e della Lira. Il carro dell'Inconciliabile fra la vita e la morte. Armonia. E quindi Armonia. Quindi già giuntura e separazione. Simmetria e asimmetria. Ma anche se la mitologia, man mano, assume la simmetria, la proporzione, il rapporto, il legame, la giuntura, economizzando. Quindi assume la parità, economizzando l'inarmonia, la separazione, la simmetria. L'improporzione. Questione del numero. La questione del numero. Ma il numero già quindi come diade. La diade. Da cui procede anche la triade. Ma da cui procede la triade sempre come numero e da cui procede quindi la struttura. e la scrittura. Non che la cifra. Eraclito. L'opposto concorde. Qui verificheremo poi la traduzione. L'opposto concorde. E dei discordi. Bellissima armonia. Non è l'unità. Non è l'unità. di Falcover. Filolao. Crotognate. c'è dei libri di Pitagora niente meno che a Platone e Platone lo cita come traditore di Pitagora come colui che crea l'unità del molteplice e la concordia del discordante quindi per Platone è un personaggio Pitagorico cioè che ha messo a morte Pitagora grazie a tutti grazie a tutti leggete Euripide com'è che dalla questione della diade la narrazione giunge alla questione del figlio leggete il coro delle Fenice e appunto dove Kadmo di tiro arriva in questa in questa terra dove dove sta il tremendo guardiano il micidiale serpente di Ares che custodiva i fiumi ondosi e le correnti con occhi stancabili quindi un masso con un masso l'avrebbe ucciso seguiamo ancora altri racconti altri racconti perché è molto molto complessa la descrizione non è soltanto con un masso qui con un masso sparsi sui denti al suolo e la terra mandò una visione di uomini armati di tutto punto che torreggiavano fino agli estremi confini della regione e Kadmo getta una pietra su questi denti è così che su questi su questi guerrieri una pietra su questi guerrieri e quindi l'uno va subito contro l'altro allora dalle nozze quindi di Kadmo e Armonia nascono agave autonoe ino e semele o semele a seconda che lo pronunciamo in maniera latina o greca allora agave cosa fa agave vediamo vediamo perché questo succede chi è il figlio che è Penteo Penteo che intanto è diventato re di Tebbe è contro contro Dioniso in questa discendenza qui appare come nella discendenza stessa di Kadmo appare Dioniso Dioniso che invade le donne di Tebbe e quindi anche agave autonoe ino e semele che stanno nel bosco che dunque sono senza senza nessuna regola nessun vincolo e quindi si abbandonano a ogni a ogni cosa di natura sessuale quindi è più afrodite a prevalere su bacco anche se sono chiamate baccanti e ma è contro dunque deve sconfiggere deve sconfiggere Penteo deve andare lì e mettere ordine ma insomma dalla madre stessa viene scambiato per un animale salvatico viene fatto a pezzi aiutato dalla sorella e viene divorato dalla madre autonoe invece appunto è quella che aiuta autore ha il figlio Ateone invece divorato dai suoi cani ino fu spinta alla follia per aver complottato contro i figliastri e si getta in mare e invece semele si rovina se si rovina la fortuna semele invece viene amata da Zeus ma lei non è contenta di essere abata da Zeus gli chiede di comparire nella sua vera forma la conseguenza è che viene incenerita però avviene qualcosa nel frattempo avviene qualcosa nel frattempo semele dalla dalla stirpe di semele semele quindi avviene appunto la la discendenza dei labidacidi ma adesso non lo anticipiamo seguiamo seguiamo dunque Euripide e poi Ovidio Euripide Euripide che descrive ciò che stiamo accennando Penteo è contro Dioniso quindi contro una specie di cugino e quindi va contro Dioniso Tiresia Tiresia è a favore è a favore di Dioniso considera quindi Penteo come come pazzo che cosa dice dunque profetizza Dioniso dunque Tebe viene invasa sempre da stranieri Cadmo è più di una volta a capo di forze barbariche che arrivano è qui che è qui dunque che lui deve lasciare e poi varie volte dunque deve andare via e qui Dioniso quindi il nipote che gli fa la profezia ti trasformerà in un drago e tua moglie Armonia che tu mortale hai avuto in moglie dal dio Ares suo padre tramutata in bestia prenderà l'aspetto di una serpe quindi tu e Armonia sarete salvati però dal dio Ares che vi destina alla terra dei beati quindi Cadmo Cadmo che prende atto del suo destino e conclude non avrò pace neppure varcato l'Acheronte sono appena gli elementi perché Euripide va letto e inteso e un'opera appunto si chiama Le Baccanti Allora qui Ovidio situa nelle metamorfosi se si trasformano in un se dunque Cadmo che ha ucciso il drago si trasforma poi nell'epilogo nel drago e e e per solidarietà armonia in una serpe e quindi questi due questi due serpenti stanno nel bosco pacifici a proteggere Tebbe questo custodi e protettori di Tebbe Allora qui descrive però appunto Ovidio il serpente generato da Marte il serpente generato da Marte è screziato di squame d'oro quindi gonfio di veleno il suo corpo e in mezzo a tre fili di denti guizzano tre lingue in questo bosco per ventura la gente è venuta da tiro quindi si notra lì cademo ma prima questa gente va prima da lui ma non cademo prima sono alcuni alcuni dei suoi che arrivano lì e non tornano perché cosa fa li uccide con i morsi quelli tendendo respire altri infine infettandoli con un miasma mortale del sovereno già il sole altissimo aveva ridotto le ombre a un filo stupito del ritardo dei compagni il figlio di Agenore allora si mise a cercarli addosso portava la pelle strappata a un leone per armi un'asta smagliante di ferro un dardo e più efficace di qualsiasi arma è il suo coraggio quindi allora il macigno che lancia poi il dardo va si conficca nella spina torsale e poi il ferro con il ferro e poi l'asta dunque punta l'asta contro la gola qui la descrizione di Ovidio è una pagina straordinaria con dettagli essenziali è qui che dunque vince vince ma sente una voce e non sa da dove provenga perché figlio di Agerio le guardi quel serpente ucciso tu stesso come serpente sarai guardato sbigottito cadimo smarri a lungo la mente e il colore coi capelli rizzi gelato dal terrore e qui Atena lo aiuta e lo aiuta e gli ordina di scavare e di seppellire i denti del drago germogli di un popolo futuro e qui descrive come man mano dunque sorgono questi uomini dalla terra e prolifica infine una messa di guerriere armate di scudo così vede sorgere le figure quando nei giorni di festa si solleva in teatro il sipario questo avviene la creazione dell'umanità quindi come così vede sorgere le figure quando nei giorni di festa si solleva in teatro il sipario prima mostra nel volto poi man mano il resto finché continuando pian piano a crescere appaiono intere coi piedi che poggiano sul bordo del palco e qui dunque Kadmo sta per prendere le armi quando tutti questi guerrieri ma viene fermato non intrometterti in guerre civili e qui si combattono e cadono per reciproche ferite i fratelli qui dunque una sentenza di Ovidio nessuno mai prima della morte delle proprie esecue dovrebbe asserirsi felice quindi mai nessuno mai prima della morte delle proprie esecue dovrebbe asserirsi felice allora dopo man mano dunque fuggire fugge fugge con la moglie va nella terra degli Illiri e qui e qui dunque Kadmo a un certo punto dice forse era un serpente sacro quello che al tempo in cui lasciamo il sidone io trafissico la lancia tiro o sidone spargendo nel suolo come assurda semente i denti velenosi se volontà degli Dei vendicarlo con ira così spietata possa io strisciare lungo il ventre come un serpente e viene quindi accontentato viene accontentato è bellissima questa pagina tutto ciò che viene che segue ma la moglie lui ancora viene mentre si trasforma in serpente ha ancora le bravi una cosa una pagina bellissima ha ancora le braccia alla testa ancora qualcosa per cui può abbracciare armonia colpendosi con le mani i pieti ignudo la moglie grida cadimo no spogliati sventurato di questa forma mostruosa cadimo che accade dove sono i piedi e le spalle le mani il tuo colore e mentre parlo il viso e ciò che resta perché mai Dei del cielo non mutate anche me in un serpente uguale dice lei e viene accontentata è una pagina bellissima del belletta in un altro modo davvero in un altro modo il drago quindi figlio di Ares e di Erinnis anche Esiodo anche Esiodo i figli di Ares e di Citeria Armonia Cadmo e poi le figlie di Armonia e in breve la fondazione della città Tebbe e i Tebani con i loro custodi fra i labdacidi quindi c'è l'abdacos quindi in questa discendenza l'abdacos che è il bisnonno di Edipo che è l'abdacos l'icos l'aios e poi Edipo quello che Ugo Foscolo la sua pièce si chiama Edippo Pausania si interessa dunque i labdacidi e cita Omero i versi dell'Odissea essi fondarono per primi Tebbe dalle sette porte e la fortificarono Nonostante fossero così forti e potenti non avrebbero mai potuto abitare questa vasta città se essa non fosse stata fortificata Ed è Anfione dunque Anfione che canta e eleva le mura di Tebbe con il suono della sua lira dunque Anfione Anfione è primo a cui Hermes ha insegnato l'uso della lira Qual è dunque la questione ancora? Cadmo quali sono gli strumenti le astuzi della battaglia quali sono gli strumenti per le arti e le invenzioni del labirinto e del paradiso lo zufolo la stessa musica ma ciò che importa è i libri Armonia il carro dunque trainato da una lince e da un leone Semere madre di Dioniso Penteo il suo regno e il suo potere Agave la madre non lo riconosce chi è Dioniso allora una delle formule che intervengono è come vuole essere Penteo è il figlio che Penteo regna Penteo regna poi verifichiamo tutti questi dati che ho accennato a livello storico perché storico-mitologico Penteo regna sta lì il suo potere Dioniso Penteo dunque stabilisce le leggi che devono essere osservate quindi l'ordine e non ci sono deroghe non così Dioniso che quindi è il figlio che è ciò che vuole e fa ciò che vuole quali sono gli strumenti comunque della non ciò che vuole